Come gli altri soffriamo di carenza di strutture e la SSB a volte, spesso o a volte diciamo così, è proprio l'appiglio dove potersi attaccare, dove potersi collegare con gli altri per poter sfruttare al massimo le strutture presenti in città. La porta a cui bussare, sapendo che insomma qualcuno è lì per te, anche questo ovviamente è importante perché tra l'altro, ricordiamolo, in tutte le società sportive c'è tantissimo volontariato, oltre a dei grandissimi professionisti e quindi ovviamente è importante... Chiamiamolo necessariato, perché è un volontariato necessario, è quello su cui si fonda tutta la nazione, penso.